L'Italia ha bisogno oggi più che mai di persone come Bernardo D'Arezzo. È il pensiero comune emerso durante il secondo appuntamento con il convegno promosso dall'Associazione Culturale San Michele Arcangelo con il padrocino del Comune di Pagani per ricordare l'onorevole Paganese a 30 anni dalla sua scomparsa. Domani alle ore 11.30 verrà ufficiata da Don Flaviano Calem dalla Santa Messa presso la Chiesa del Corpo di Cristo. Al termine della cerimonia religiosa verrà scoperta una lapide commemorativa posta sulla faccetta di Palazzo San Carlo, la piazza Bernardo D'Arezzo. Mio padre in realtà dovunque fosse in realtà non era uno che viaggiasse se non per motivi di lavoro però in realtà il suo spirito era sempre orientato da dove partiva cioè lui partiva da Via Pendino, partiva da Pagani e tornava sempre a Pagani, tornava sempre a Via Pendino ma questo nel pensiero, nell'azione, non fisicamente parlando anche se poi è stato qui presente come parlamentare sui vari incarichi in realtà la sua testimonianza, o meglio la sua azione politica era sempre legata al territorio non c'era nulla che fosse distante non era mai andato a Roma cioè era a Roma perché il Parlamento è a Roma però appena poteva, di notte, qualunque fosse la condizione lui tornava a Pagani era un magnetismo che lo riportava immediatamente a Pagani 30 anni dalla sua morte, ecco che un'amministrazione insieme a dei suoi intimi amici insieme a un'associazione e al figlio volevano riproporre la figura di Bernardo D'Arezza ai nostri giovani, far ricordare ai nostri giovani far capire ai nostri giovani chi è stato Bernardo D'Arezza era un qualcosa di doveroso nei confronti della figura D'Arezza noi ci stiamo riuscendo, l'abbiamo fatto lo faremo anche domani mattina quindi scopriremo una lapide nella parte principale del comune di Pagani in ricordo di Bernardo D'Arezza credo che l'Italia avrebbe bisogno di tanti uomini come lui per ritornare veramente a fare le cose sul serio e non a blaterare solamente o a fare il furbetto della domenica perché oggi abbiamo a che fare con i furbetto della domenica di qualsiasi area partito si parla insomma c'è bisogno di concretezza in questo momento mai come in questo momento la gente lo chiede speriamo che ritornino questi tempi dove la concretezza per carità c'era anche la politica con tutte le sue cose pulite, le cose sporche ma c'era poi un limite a tutto che era quello di curare un interesse particolare che era il volare alto sotto certi aspetti la figura di D'Arezzo non è una figura da rinchiudere nelle mura di Pagani Bernardo D'Arezzo è stato a parte i ruoli che ha svolto a livello nazionale a livello provinciale, regionale è stato un personaggio che si è occupato delle cose ad ambio raggio Mauro Calise nel suo libro il sistema DC dice testualmente Bernardo D'Arezzo fu amico degli umili non dei potenti questo comportò un suo impegno ad ambio raggio a 360 gradi perché gli umili non li si difende stando con loro ai margini della vita comune li si difende portando le loro istanze in tutte le sedi e combattendo perché i loro problemi questi risolver